La presenza del ministro degli esteri Luigi Di Maio e dei sindaci di Atene e Tirana all'evento internazionale di martedì 12 luglio, promosso dall'officina del senatore PD Luciano D'Alfonso, colloca la nuova Pescara al centro di un'Europa Adriatico-Ionica senza confini. Il doppio evento istituzionale inizierà alle 16.30 con la cerimonia inaugurale della giornata internazionale del Museo dell'Ottocento in via d'Annunzio a Pescara, per proseguire alle 17.00 presso la sala consigliare di Palazzo di Città con il convegno internazionale dal titolo Nuova Pescara, la città senza confini al centro dell'Europa Adriatica, che offrirà spunti di riflessione per la costituzione della nuova città metropolitana. L'evento è stato presentato questa mattina presso la sala consigliare del Comune di Montesilvano alla presenza del sindaco di Spoltore Chiara Trulli, dell'assessore del Comune di Montesilvano Paolo Cilli e del senatore PD Luciano D'Alfonso. Non si può portare con successo avanti questa grande città progetto se non si assumono informazioni, esperienze, da ciò che hanno già fatto città come Tirana, Atene, che hanno già lavorato alla fusione. E poi il rapporto nello spazio europeo dell'Adriatico, per esempio per la qualità del mare blu. Noi già siamo vincolati da una direttiva, la 2014-89 UE, che obbliga a pensare l'utilizzo sostenibile del territorio, tenendo da conto l'acqua del mare. Se lo facciamo noi, lo devono fare anche dall'altra parte dell'Adriatico. A Spalato, la nuova Pescara evoca un pensare cambiato rispetto alla terraferma, all'acqua, a quelli che sono vicini a noi. C'è bisogno di riorganizzare i territori dietro a Pescara, Spoltore, in provincia di Pescara, ma anche davanti a Pescara, Spoltore e Montesilvano, pensando ai rapporti nella regione Adriatico-Ionica. Per questo viene anche Di Maio che ci aiuterà a pensare iniziative di cooperazione transfrontaliera. Noi però dobbiamo dotarci di una norma che consenta ai consiglieri comunali di partecipare agli organi collegiali. Dobbiamo pensare ad una pianta organica dei dipendenti, che riconosca il lavoro in più che dovranno fare. Noi abbiamo in mente tutto questo, c'è il consenso, perché questo lavoro lo faremo alla pari, tutti insieme, con convergenza. Però di fatto la nuova Pescara non c'è ancora. Ci sono però tre elementi fondamentali. Il referendum, la legge regionale, poi c'è la legge statale che assegna 105 milioni. Adesso servono altre norme. Sia chiaro, la nuova Pescara deve mettersi la tuta e cominciare a camminare e correre quando tutto è a posto, perché deve funzionare. Noi non vogliamo trovarci davanti a Pescarexit. Dobbiamo produrre capacità di funzionamento, opportunità, comodità, anche più diritti. E una rivoluzione, questa facciamola bene.